Se non avete ancora deciso il regalo di Natale da fare, oggi vi proponiamo questa bellissima Lopro Passport Sling serie 3, colore nero ma c'è anche in colorazione grey che è un verde militare è molto bella perché è un materiale idro repellente quindi anche buona per gli esterni soprattutto per andare in montagna, è molto comoda perché è una tracolla quindi si mette in questa posizione e si può andare a estrarre il vostro materiale fotografico semplicemente spostandola verso in avanti, il costo è abbastanza contenuto, solo i 60 euro quindi anche per chi vuole fare un pensiero è molto indicata andate a vederla sul nostro sito per maggiori informazioni, oltre a questa borsa potete vedere tutte le nostre borse che abbiamo disponibili pronta consegna e non ci resta nient'altro che augurarci buon Natale, buone feste e vi aspettiamo fino a domenica perché siamo aperti anche alla vigilia a domenica perché siamo aperti anche alla prossima a domenica perché siamo aperti anche alla prossima